Grazie a tutti i nostri amici. In quella splendida cittadina che è Castelbuono. Io l'anno scorso ho avuto il piacere di partecipare e sono stato fortunatissimo nel vincere questo premio come miglior attore non protagonista. Anche quest'anno noi ci saremo come compagnia teatrale Nino Martoglio e saremo là a partecipare a questa bellissima esperienza, a questo secondo gran galà del teatro dialettale siciliano. E comunque vada, diceva qualcuno più famoso di me, sarà un successo. Eccola qua, non poteva mancare, mia figlia ospite sempre. Ci rivediamo, in bocca al lupo a tutti. Io purtroppo perché ero fuori Sicilia non ho potuto essere presente alla premiazione della manifestazione. Ma l'ho seguita tutto, tutto, tutto in streaming. Sì, e non è che ero tanto contento. Completamente. Per come stavano andando le cose non ero contento. Ero contentissimo perché il primo premio ha segnato la migliore locantina per lo spettacolo. A chi è andato? Alla compagnia teatrale Il Belvedere di Catania. Se poi a questo aggiungiamo il terzo premio come migliore compagnia. La torta era buonissima. La ciliegina, panni, fiorellina a tonno a tonno. Ora io dico, io per quest'anno ho già prenotato, ho già inviato il file del mio nuovo spettacolo. Ma voi, ufacistolo, dai, spicciatevi, spicciatevi, che il tempo sta per scadere. E mi raccomando, ci vediamo tutti a Castelbuono. Grazie, grazie città di Castelbuono, grazie agli organizzatori. Cari amici, Gabriele e Stefania, un grosso saluto vi giunge dall'Associazione Piccolo Teatro di Santa Lucia del Mela. Voglio dire che l'anno scorso, alla prima edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale Premio Regionale Città di Castelbuono, ci siamo trovati benissimi. Voglio augurarvi un grosso in bocca al lupo per l'organizzazione della seconda edizione. E recutatemi. Hai a Dina che cammina, sarò con gli cavozzaglina. Ciao. Il giorno 28 dicembre del 2019 ho ricevuto il premio per la categoria migliore giovane emergente Under 22. Ero emozionato, ero contento, ero commosso, ma ero anche determinato. Ero attraversato da una vasta gamma di emozioni. Ringrazio i miei genitori, ringrazio l'associazione di cui faccio parte perché è formata da giovani molto validi, da un corpo direttivo molto attivo. Ringrazio la compagnia teatrale I Frastornati e auguro a tutti voi di poter lavorare nella vita e nei progetti teatrali con passione, spirito di abbennecazione e buona volontà. L'anno scorso abbiamo partecipato con grande entusiasmo al Gran Galà del Teatro Dialettale, premio regionale Città di Castelbuono. Devo dire che abbiamo vissuto delle grandi emozioni per diversi motivi. Abbiamo visitato intanto la città di Castelbuono che è una bellissima cittadina, ricca di storia, cultura. L'emozione più grande è stata sicuramente quella di aver vinto, di essere stati decretati vincitori del premio per quanto riguarda la migliore scenografia. E in quel momento, prima di raggiungere il palco, non vi nego che sono inciampato due o tre volte. E non è stata colpa del tappeto sicuramente, Gabriele, soprattutto lo dico a te, stai tranquillo, il tappeto era messo bene. È stata solo ed esclusivamente la grande emozione che quella serata ci ha regalato. Noi abbiamo partecipato l'anno scorso alla prima edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale, premio regionale Città di Castelbuono. Di questa bella iniziativa ringraziamo i frastornati e per la direzione artistica Gabriele Perrine e Stefania Gentile. È stata una bella emozione l'anno scorso, è stata una bella emozione. Noi abbiamo avuto la menzione speciale della giuria per i migliori costumi. In un momento come questo penso che affacciarsi alla normalità, affacciarsi alla seconda edizione del Gran Galà è una bella prospettiva. Un bacio e ci vediamo alla seconda edizione del Gran Galà di Castelbuono del Teatro Dialettale. L'anno scorso ho partecipato al vostro concorso e ho vinto come attrice eclettica. Questo è stato il mio premio. Che dire, ricordo la gioia, la gioia grande che ho provato sia per aver ricevuto questo premio, ma soprattutto avervi conosciuto. Di voi non posso dire che bene, la gentilezza, la cortesia sia degli organizzatori ma di tutti, dal sindaco ai commercianti. Ho rivisto amici, ho incontrato persone nuove e quindi è stata una bellissima esperienza che spero di poter rifare al più presto. Castelbuono è un paese che amo moltissimo e quando abbiamo saputo che c'era un premio teatrale proprio qui ci è sembrata un'idea bellissima partecipare. Con il nostro spettacolo abbiamo vinto il premio per i migliori tempi teatrali. E la serata di premiazione per noi è stata bella, emozionante. Lui e Pietro intanto è stata molto emozionante. Siamo venuti con alcuni dei nostri ragazzi che hanno condiviso con noi questo momento di gioia. Ed è stata, credo, una manifestazione che ha dato grande lustro al paese e a tutte le belle realtà culturali che la nostra Sicilia offre. Vi ringraziamo tutti e speriamo di avere occasione e di rivederci presto. Andrà tutto bene, ciao! Nella scorsa edizione siamo stati in nomination per ben tre premi e premiati per le migliori musiche. E vi ripeto quello che ho già detto durante la premiazione. Ovunque la musica è un cuore polietrico che batte. Questa è la verità. Ecco, io concludo dicendovi che siamo stati bene con voi a Castelbuono. Nulla da dire all'organizzazione. E ragazzi, continuate, continuate, continuate. Viva il teatro! Noi l'anno scorso siamo stati premiati dalla giuria con un premio menzione speciale per la miglior drammaturgia del nostro spettacolo da titolo Elisabetta. E ne siamo veramente onorati. Vogliamo con piacere l'occasione di Gabriele di poter rivederci seppur virtualmente. Siamo pronti per tornare in scena. Siamo pronti per ridere assieme. E siamo pronti per emozionarci ancora. Perché finché c'è la voglia di vivere e la voglia di raccontare, allora ci sarà sempre voglia di fare teatro e di vederlo. Un bacio a tutti! Ed eccolo qua il nostro premio, del quale siamo veramente orgogliosi. Premio per le migliori musiche con lo spettacolo Voscienza deve sapere. Un saluto dalla Casa dell'Arte e dalla città di Gran Michele. Un abbraccio speciale va al nostro amico Gabriele e a tutti i ragazzi della compagnia dei Frastornati. E alla città di Castelbuono che ci ha accorto in modo veramente speciale, facendoci sentire di casa. Niente, che dire della serata? Fantastica, coinvolgente. Una serata all'insegna del divertimento, dell'amicizia e soprattutto della passione per il teatro. Speriamo di poter tornare anche quest'anno a vivere le stesse emozioni e che vinca il teatro. Un saluto, ciao! Ho avuto il piacere, sotto invito dei Frastornati, di partecipare al Gran Galà del Teatro Dialettale. Sicuramente è un'esperienza bellissima, un'esperienza che mi ha donato la menzione d'onore come miglior attore poliedrico. Da quel momento in poi, per la compagnia Liotru, per gli amici miei, io sono diventato Aldo il poliedrico. La cosa non mi dispiace affatto, anzi, mi onora. Cosa dire? Ho avuto il piacere di riscoprire, scoprire Castelbuono, un bellissimo paesino. Ho avuto la possibilità di conoscere i Frastornati, o parte di loro, il più Frastornato di tutti, Gabriele, sicuramente, quella sera lo era. Ma tutto è andato benissimo. Quest'anno ho avuto la possibilità di partecipare al concorso di Castelbuono di Sicilia. Ho avuto l'onore, grazie alla giuria che mi ha votato, di vincere il primo premio come migliore attrice non protagonista. Speriamo di riprendere al più presto possibile questa brutta situazione, di risalire sul palco, di far sorridere la gente, divertirci come prima, forse anche meglio di prima. Tu chiamate se vuoi, emozioni. Cosa avete vinto? Abbiamo vinto il premio social e il premio speciale Città di Castelbuono. Anzi, cogliamo l'occasione per ringraziare la Città di Castelbuono per l'accoglienza e Gabriele e Stefania perché siete stati veramente ospitali. Ospitali? E in che reparto? Dai, forza, siamo seri, dai, forza. Ve lo aspettavate? No, mai, mai, troppa incredulità. E in questo video che cosa avete pensato? Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci possiamo credere! Ci vediamo alla prossima edizione! Ciao! Ciao! Volevo ringraziare gli organizzatori del Gran Galà del Teatro Dialettale di Castelbuono per averci assegnato nell'edizione 2019 ben due premi. Uno come miglior attore eclettico a sottoscritto insieme all'amico Aldo Seminare e l'altro a migliori costumi. Ma al di là dei premi, comunque restano un riconoscimento per l'attività che abbiamo svolto e uno sprone per fare meglio, il Gran Galà di Castelbuono resta una grande festa, una festa tra gente che amano il teatro. Noi ci siamo iscritti nuovamente quest'anno. Perché? Ah, perché questo concorso è organizzato benissimo e oltretutto la location è fantastica. Quindi ho un'occasione per ritornare a Castelbuono. Con molti di voi non ci conosciamo, ma iscrivetevi. Possibilmente ci incontreremo a Castelbuono e potremo passare insieme una bella serata di buon teatro. L'anno scorso, nella prima edizione del Gran Galà, abbiamo partecipato con la commedia Il Medico dei Pazzi, per cui ho vinto questo premio. Quest'anno, essendo che sono stato invitato di nuovo io e la mia compagnia dai coniugi Perrini e Gentile, speriamo di poter partecipare di nuovo. Pertanto faccio tanti in bocca al lupo, sempre ai coniugi, sperando che la mia compagnia possa partecipare di nuovo e sperando sempre di poter vincere sempre qualche cosetta. Non per forza, però. Se ci sta, ben venga. L'anno scorso così, per metterci in gioco, abbiamo voluto partecipare alla prima edizione del Gran Galà del Teatro Amatoriale. E lo sapete come finivo? Ho vinto un premio, ho vinto. Premio speciale Antonio Mazzola. E voi pensate che dopo tutta questa motivazione e tutta l'emozione che io ho provato non è partecipare alla seconda edizione? Questo è il premio che ho vinto alla prima edizione del Festival Città di Castelbuono. Premio come migliore autore. Sono passati quasi cinque mesi da quella splendida serata nella quale ho ancora un grandissimo ricordo, una grande emozione che veramente non potrò mai, 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 mai scordare. Ringrazio ancora la giuria che mi ha voluto attribuire questo premio. Tra l'altro era la mia prima scrittura, quindi immaginate quale emozione possa essere stata. Ringrazio ancora Gabriele Perrini e tutta la compagnia dei Frastornati. E in bocca al lupo per la seconda edizione del premio. Sono sicuro che sarà di nuovo una magnifica serata perché i ragazzi sono molto bravi e si impegneranno moltissimo. Ciao a tutti e a presto! Con grande entusiasmo noi abbiamo partecipato al vostro concorso teatrale con due nostre commedie. E con una di queste abbiamo ricevuto il premio come miglior testo inedito. Ecco qua il bellissimo, elegantissimo premio attribuitoci. E l'esprimere e raccontare l'emozione che ho provato momento in cui ho sentito nominare il mio gruppo come vincitore del premio davanti ad una straordinaria platea che rappresentava l'amore del teatro dilettale di tutta la Sicilia è stato qualcosa di indescrivibile. Ricordo che in quella sala si respirava un'atmosfera magica di grande festa dove ognuno di noi si sentiva protagonista di qualcosa che aveva fatto con il cuore e che condivideva insieme agli altri la stessa passione e amore per il teatro. È stata un'esperienza unica e sicuramente da ripetere. Io vi auguro un nuovo successo con la seconda edizione e noi saremo lì ancora presenti ad avere l'onore e il piacere di stare insieme a voi. Ciao a tutti cari amici terranti vi mando un grosso bacio e un saluto dalle isole orie io ho vinto, come potete vedere, il premio come miglior autore per me è stata un'emozione grandissima, una soddisfazione speciale in quanto, diciamo, era la mia prima scrittura il testo si chiamava Morte Apparente sono stato felicissimo di partecipare a questa iniziativa e mi auguro che ce ne saranno tante altre voglio ancora elogiare la fantastica organizzazione che ha messo in atto appunto il nostro amico Gabriele e tutti i suoi collaboratori. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo presto e alla prossima edizione. La Coppa che ci è stata consegnata a Castelbuono a fine anno nel corso della prima rassegna di teatro regionale in città di Castelbuono il premio dato alle migliori regie è un premio che ci ha fatto particolarmente piacere perché la regia di questa commedia così come quasi tutte le commedie di questi 50 anni era stata curata da Lucio Brullo che purtroppo è prematuramente scomparso a febbraio del 2019. Quando abbiamo appreso del riconoscimento proprio alla regia proprio alla memoria di Lucio Brullo non mi nascondo che tutti quelli che eravamo presenti nel gruppo siamo stati colpiti da una fortissima emozione un nodo alla gola che ci ha impedito di esternare, di manifestare tutta la nostra contentezza tutto il nostro godimento per questo riconoscimento che ripetiamo uno dei più importanti della storia della compagnia Indubbiamente è stato un riconoscimento che ha fatto piacere a tutti perché è un riconoscimento dato all'intera compagnia per la drammaturgia e quindi per la messa in scena della commedia stessa Io ringrazio gli organizzatori di questa gran gala del teatro dialettale siciliano per l'iniziativa perché queste sono delle iniziative che fanno bene al teatro in generale e in particolare al teatro amatoriale perché noi che passiamo per dilettanti abbiamo il nostro premio unicamente nei tributi nel riconoscimento che ci dà il pubblico stesso quindi avere un premio regionale che ci gratifichi per un'intera rappresentazione è certamente qualcosa di estremamente positivo e gratificante prima edizione del Gran Galà e secondo classificato diciamo che la giuria eccolo qua guardate il premio ci ha attribuito il secondo il secondo posto classificato come miglior spettacolo diciamo che ne siamo stati felicissimi orgogliosissimi per noi è stato davvero un riconoscimento tanto 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 gradito e tanto sperato perché no lo diciamo e perché no crediamo anche abbastanza strameritato per cui a prescindere dal premio perché poi i premi sono sempre un riconoscimento che lasciano il tempo che trovano è vero che ti inorgogliscono e ti dicono stai percorrendo la strada giusta però contemporaneamente questo premio non so perché ma per noi ha avuto un valore particolare e quindi insomma riparteciperemo sicuramente con grande piacere e anzi non vediamo l'ora che ci siano le selezioni e poi che vengano decretate tutte le nomination e quindi grazie complimenti Gabriele a te e a tutto il tuo staff anche Stefania comunque tutta la vostra il vostro entourage e la vostra compagnia ho accolto con grande piacere l'invito di Gabriele e di Stefania e di tutti i frastornati a fare questo piccolo video devo dire che la serata conclusiva del premio Città di Castelbuono è stata una serata magnifica stupenda soprattutto per me e per la mia compagnia io personalmente appena ho sentito il nome migliore attore caratterista sono balzato sulla sedia mi sono messo con i piedi sulla sedia mi sono alzato mi sono messo a fischiare e a gridare è come un matto quindi la gioia che ho provato sicuramente è una gioia indescrivibile e immensa nella prima edizione del gran galà del teatro dialettale siciliano premio Città di Castelbuono sono stato premiato come migliore attore protagonista ecco la prova al di là di questo prestigioso premio che la giuria mi ha voluto assegnare dico che sono rimasto meravigliato dall'organizzazione impeccabile curata in ogni minimo particolare meravigliato per il gran numero di compagnie partecipanti e poi per la graziosa trovata di far promuovere la manifestazione a tanti artisti siciliani e non un saluto a tutti gli amici della compagnia teatrale pastornate di Castelbuono e in particolar modo all'amico Gabriele Perlini e Stefania Gentili che sono stati proprio degli infaticabili direttori artistici è stata veramente un'emozione perché mi sono veramente sentita come quelli attrici su Red Cuppets camminare là sopra è stata un'emozione non indifferente già questa mi bastava all'improvviso vedo la mia amica che mi fa dei gesti inconsulti con le mani mi faccio menina ma che cosa c'è come che cos'hai il tuo nome il tuo nome e c'era Gabriele che dal parcoscenico mi chiamava la signora Sara Giordano la prima volta la signora Sara Giordano ma questo perché me l'ha detto lei che mi ha chiamato tre volte e io non capivo che avevo vinto io tanto che mi hanno letteralmente spinta non so come sono arrivata dal mio posto ad arrivare al parcoscenico però ci sono arrivata forse volando non lo so come in quel momento è scoppiata una bomba atomica dentro di me perché io ho detto ho vinto io ho vinto io tanto che quando Gabriele mi ha dato mi hanno dato in mano e non so neanche chi me l'ha data la statuetta in mano io l'ho afferrato proprio me la sono tenuta come se avesse avuto paura che qualcuno me la strappasse dalle mani tanto che in macchina mi tenevo stretta talmente questa statuetta dicendo sempre ai miei mani è vera ma voi la vedete vero? io ce l'ho in mano poi la vedete è vera questa e mi sono dimenticata pure di avvisare mio marito che avevo vinto buonasera per sogno di una notte di mezza sbordia di Edoardo De Filippo premio della critica al Gran Galà regionale di Castelbuono 2019 presidente dell'associazione arte e teatro professore Giacomo Mangiaracina le sue impressioni a caldo appena sentito il suo appena sentito il suo nome molto calore ha sentito nel proprio corpo proprio tutte queste persone tanto un posto colmo di gente e il cuore batteva forte e fitte fitte nel cuore e quasi delle pugnalate nello stomaco e sai che zampillava dalle ah proprio si sentiva così tagliava le vene una catastrofe direi e poi sentivo un pelo riccio un pelo riccio ah ok e allora sulle ultime note di pelo riccio ringraziamo il professore Mangiaracina saluti a tutti e una buona serata primi classificati al festival di Castelbuono la compagnia le maschere di caricattivi grazie grazie a tutti grazie alla compagnia i frastornati di averci invitati e grazie comunque la giuria che ci ha fatto vincere siamo felicissimi ma voi altro che felici siamo super felici felici di più di più di più siamo condivissimi da Oscar ragazzi mi raccomando partecipiamo perché è un gran bel festival dove c'è accoglienza Enzo di più di più panettoni di più di più belle donne di più di più e poi ci siamo anche noi che abbiamo ripartecipato e poi un'altra cosa vive il teatro vive il teatro è stata una serata bellissima nell'insegna proprio dell'amore per il teatro i ragazzi dei frastornati sono stati eccellenti proprio nell'organizzare la serata dal red carpet dall'accoglienza per la premiazione e proprio l'amore e l'umiltà che hanno messo questi ragazzi in questa grandissima sfida che hanno fatto anche contro se stessi perché per essere a livello regionale hanno lavorato abbastanza e vi posso assicurare benissimo il premio in se stesso sì mi ha gratificato devo essere sincera ma la cosa che mi ha reso più felice è proprio vedere tutte queste realtà di tutte le compagnie della Sicilia che si sono uniti per il grande amore che noi proviamo per questa grande arte niente che dire per me è stata una delle cose più belle che io abbia vissuto perché era fatto con tantissimo amore e con molta umiltà ringrazio i frastornati ringrazio Gabriele Stefania e tutta l'equip che ha contribuito a far sì di quella serata straordinaria vi abbraccio tutti e vi porto nel cuore ciao e a presto ragazzi siete straordinari vi amo ciao Grazie.